Oggi finalmente abbiamo inaugurato il piazzale in ricordo di Don Domenico Zucca perché, come sapete, uno dei compiti delle amministrazioni comunali è anche quello di aggiornare, modificare e integrare quello che è la toponomastica e quindi le vie della nostra città. Sono molto felice di aver condiviso, tra l'altro, questa inaugurazione con chi aveva proposto di inaugurare questo piazzale a Don Domenico Zucca, ovvero il consigliere Rizzardi perché questa arriva da una sua proposta e da una delibera di giunta che ha portato avanti l'amministrazione De Paoli ma che poi è stata condivisa e quindi portata avanti anche dalla nostra amministrazione, dalla giunta Fracassi. Ecco, io credo che sia importante ricordare, quindi anche attraverso la toponomastica, proprio per non dimenticare e per trasmettere anche alle nostre generazioni future, quindi ai nostri ragazzi, l'importanza che hanno rivestito alcuni personaggi come nello specifico Don Domenico Zucca nella nostra città, nella nostra pavia e soprattutto nello specifico nel quartiere di Borgo Ticino. Sì, oggi abbiamo avuto finalmente completamento di quest'area come toponomastica, avevamo fatto un piccolo sondaggio durante l'amministrazione De Paoli per valutare quali fossero i nomi più cari ai cittadini, ai residenti di Borgo Ticino e uscirono sorpresa sia Don Domenico Zucca sia Pietro Landini. Fu intitolata con urgenza a Pietro Landini la via di accesso per un problema di residenza urgente dei residenti presso l'edificio ex area Landini appunto e quindi si doveva dare una residenza con una certa urgenza. E poi finalmente inauguriamo anche il piazzale a memoria di Don Domenico Zucca che era stato richiesto da parecchi cittadini visto che aveva coperto un periodo dall'immediato anzi direi dalla guerra, dalla seconda guerra mondiale fino alla fine degli anni 70. Morì nel gennaio del 1983 però il ricordo resta ancora vivo nella mente di tutti. Ebbe un grosso pregio sia durante la guerra di fare da collante, da legame per evitare i conflitti anche post politici, post bellici. Tutti erano uguali, tutti dovevano collaborare alla rinascita e questo è stato un bel messaggio. La gente lo capì, inoltre riuscì ad aggregare i giovani con la scusa dello sport, creò un gruppo con l'oratorio San Raffaele in Borgo che riuscì a creare aggregazione giovanile crescendo nello spirito cristiano ed è il rispetto reciproco. Finalmente riaprirà il nuovo oratorio San Raffaele con Don Fabio Curti che ha ereditato direi un passaggio di testimone molto pesante però sarà il centro di aggregazione giovanile più vicino al centro e anche di attività sportiva.